Salve a tutti da casa Der Papi, buon sabato a voi, a me no perché io sarò tra poco un uomo senza una falange, quindi mi chiameranno nove e mezzo, non sarò più dieci perché posso fare più dieci che le mani, oh firmete non ti devi mani a po' per dita, allora lui è il piccolo millo, quello che cerca sempre una casa che è così un giocherellone che si trova a casa Der Papi, ma oggi siamo in procinto di preparare che cosa, buongiorno ecco mi faccio vedere un pochettino, sono andato a far pure la barba, grazie Fabietto Cacciotti al numero uno a Priverno in provincia di Radia, per la barba ma anche per tutte le altre cose e lo ringraziavo per la sua opera, allora io meglio che mi sbrigo perché sennò veramente questo mi semagna tutto quanto, allora vi volevo far vedere il gabbione che è pronto, quello nuovo perché oggi chi arriverà mammi oggi? Arriveranno altri piccolini vero? Tottino già li sta a cercare, Tottino non sono arrivati, vabbè comunque lui e Milo noi prepariamo tutto perché oggi ci saranno nuovi arrivi a casa Der Papi. Dai gabbioni loro possono entrare e uscire avendo un po' di pace perché quando invece ci sono gli altri perosetti in giro uno può chiudere il gabbione e rimangono dentro, questo è quello che spiegava proprio Asia ieri nel video dove faceva capire che tutti possiamo diventare volontari, giusto Mami? Assolutamente sì. Tutti possiamo fare questa cosa, ci vuole tanto per accudire dei piccolini? Assolutamente no. Assolutamente no, tutti assolutamente. Poi ci pensiamo noi alla gabbia e tutto il resto, prepariamo noi il materiale? Certo. Brava, hai visto? Io mi aspettavo assolutamente un'altra volta, invece no. Comunque è una cosa semplicissima, puliamo un'altra gabbia perché oggi ci saranno questi nuovi arrivi, sono i piccolini trovati abbandonati, trovati buttati dentro la monnezza, buttati un po' di tempo fa ma noi li abbiamo salvati, la Mami pulisce tutta la nuova gabbiona. Noi siamo in partenza, andiamo a prendere i piccolini, perché te rascondi? Quale te rincorro? Asia, sempre bella che pronta per le nostre missioni. Quanti gattini sono Asia, lo sai? Cinque. Cinque? Sei. Sei? Non se sa. Non sei. No, sono cinque piccolini che arriveranno a casa del papi e noi siamo pronti, il papi con la piccolina Asia. Prima di andare a prendere i gattini da Monica, necessaria una pausa da Zomax perché ci servono le crocchette, ci serve qualche altro accessorio, se potete dateci una mano, qui è sempre aperta la nostra raccolta per i piccolini salvati dall'Italia a quattro zampe e solo insieme a voi, se venite qua, riusciamo ad essere la voce di tanti pelosetti del mondo. Vi faccio anche l'elenco delle cose che siamo venuti a prendere da Zomax. Frontline, spray perché ci serve per i piccolini, nel caso avessero qualche pulcetta, e poi anche le crocchettine per i piccolini. E poi dobbiamo parlare dei gabbioni, vedete i gabbioni? Questi sono i gabbioni che noi stiamo cercando di sistemare a casa di qualche volontario proprio per far fare i stalli a questi gattini e Zomax ce l'ha. Allora io vi dico che queste cose che abbiamo preso e abbiamo lasciato il buffo come al solito, quindi se volete dateci una mano perché è importante, è importantissimo il vostro sostegno nei negozi che aiutano l'Italia a quattro zampe. Zomax si trova a Priverno ma si trova anche a Sabaudia. Guarda quanta bella roba, poi si è allargata, ho fatto un pezzetto nuovo, poi un giorno verremo e ve lo faremo vedere tutto quanto bello per quanto è esteso proprio questo bel negozio Zomax. Intanto questa è la sede di Priverno dove è aperta la nostra raccolta alimentare. Abbiamo fatto tutto da Zomax, siamo andati, abbiamo speso 27,94 euro e abbiamo lasciato anche il buffo ma 27 con lo sconto che ci fa Zomax, perché se no qui spenderemo davvero certamente di più. Grazie a questo negozio che si trova a Priverno in provincia di Latina. Adesso andiamo a prendere i cucciolotti. Siamo arrivati a casa di Monica, momento delicato perché dobbiamo prendere i piccolini e dovrebbero essere quattro femminucce e un maschietto. Cos'è che si è ansia? Sei riccia, tanto. Allora va a te bello, lui è Dino che mi aspetta proprio come un bambino, vero Dino? Mi aspetta sempre Dino, mi ricordo tanto Chira Dino perché è proprio uguale, infatti quando venivamo qua io ci siamo sempre assomigliati a Chira. Tanta gente Monica ci abbiamo, guarda, tanti poverini. Ci abbiamo anche tanti trasportini perché siamo prontissimi per prendere i cuccioli. Monica buongiorno, salutiamo a tutti, ecco la nostra grande volontaria. Allora siamo entrati, oh eccola, allora questo è il primo, ve li voglio far vedere giusto, no niente vabbè, comunque lui era stato buttato in mezzo a una strada. Ma pure i tuoi? Quest'altro? Invece chi è? Il fio di principessa. Questo è il fio di principessa, allora iniziamo a metterli dentro, si è così almeno, guarda quanto è bello, ma lei è bella, è piccola, no ma sono bellissimi. La mucchetta di Fossanova. Qua questa è la mucchetta di Fossanova, quella che stava dentro il secchio della monnezza praticamente. No, è qualcosa di spettacolare, pure un po' a pelo lungo questa qui, la mucchetta di Fossanova, è una mucchetta a pelo lungo, allora siamo a quota 3, intanto li iniziamo a riporre nel trasportino. Questo è il grandicello, è più grande. È più il grandicello, vabbè comunque, anche lui sta bene. Ma prendo un altro? Di questo c'è un altro. E dopo, dopo intanto li mettiamo tutti quanti qua dentro. E poi c'è un vitello, eh sì c'è un vitello. Ma quanti sono? 3, 4? 4, ragazzi. Questo è l'altro, 4, sì sì, intanto si sono comunque apparecchiati bene, guarda come stanno tutti quanti. Ragazzi questo è un trasportino pieno davvero d'amore, troppo troppo amore, io sono emozionatissimo. Questi li porteremo tutti a casa del papi, per il momento sono 4 ma ce ne manca uno, vero? Ce ne mancano due, ma quanti sono? Sono sei. Ah, sono tre dei principessi e tre del papi. Ah, bello, guarda come giocano. Comunque dai, andiamo a cercare gli altri e vi faremo sapere. Allora intanto lui l'abbiamo trovato. E lui è l'unico maschio, mi hai detto, no? Il maschio è quello bianco e nero. Ah, allora no, questa qui è femminuccia anche lei, è bellissimo. Grigio con il musetto arancio. Ah, cioè devi prendere altro trasportino perché qui sono troppi. No, e questo chi ha? È il mio. Amore mio. Ma tu sei qualcosa di spettacolare? Guardate che c'è, quello che deve venire con te momentaneamente è mia. Ah, questa la stalliamo noi praticamente, ce la teniamo noi. Ah, si ha, eccola. Guarda. Questa è identica al padre. Comunque, intanto loro fanno tutte le smancerie, la piccolina, quell'altra che... Comunque non deve cercare una casa, ma io volevo far vedere quello che c'è qui dentro, che c'è davvero la fine del mondo. Sono bellissimi i cucciolotti che arriveranno a casa del papi. Allora, stiamo provvedendo anche alla divisione tra figli adottati. Allora, loro sarebbero tutti i figli, giusto? Sì, sì. Della, come si chiama? De principessa. De principessa. Allora, invece questi sono tutti quelli adottati. Due sono stati portati dal signor Santoro, trovati a Ceriara in provincia di Latina, e invece quell'altra sotto è la mucchetta di Fossanova, che è tanto, tanto carina. Pure lei, amore. Tutti, tutti belli, so. Vabbè, l'abbiamo visti anche nei video che ci ha fatto anche Monica. E questi invece sono i figli. Allora, lei no, non va da nessuna parte perché lei è demonica. Per il momento la teniamo noi a casa perché Monica si dovrà assentare. E poi ci sono tanti altri cattini che cercano casa, eh. Mica solamente lei, lo so. Che questa ha un musetto un po' così, è un po' particolare e quest'altro pure. No, ma sono tutti belli. No, no, troppo belli, vabbè. Ci sono gli occhi belli e chiari, spero solo che li mantengono perché... Chiudiamo bene tutto. Dimmi, dimmi Monica. La sorella di Pris, le sorelle di Prisci Testa, c'erano tutti gli occhi azzurri. Ah, stanno confabulando tutte le donne. Vabbè, vi faremo sapere. Italia ha quattro zampe, siamo in partenza per arrivare a casa del papi. Asietta, siamo pronti? Sì. Quanti sono i trasportini? Non mi è come due. Quanti sono i gattini? Tanti. Sei. Tanti, abbiamo tanto da fare. Partiamo. Grazie a Monica che li ha spiegato. Guardi, saluti. Eh, certo, saluta tutti quanti, ma saluta soprattutto i piccolini. A noi non ci sta a pensare minimamente. Li ha tenuti per tanto tempo sia i figli proprio della principessa, ma anche quelli adottati, perché sono stati portati, ha fatto veramente tanti salvataggi questa principessa. Italia ha quattro zampe, ringraziamo Monica per lo stallo, ringraziamo anche Monica per qualcosa che ci ha dato da far mangiare a questi cucciolotti e andiamo a casa del papi e fuori c'è qualcuno anche che ci aspetta. E lui ci aspettava fuori, Schippi, è un pelosetto, guarda gli occhi che c'ha Schippi, uno di un colore e uno di un altro, particolarissimo anche lui, vive qui a casa di Monica, ci hanno tantissimi dei gattini, dei cagnolini, noi dobbiamo intanto posizionare questi in partenza per casa del papi. Italia ha quattro zampe, Asia, pensaci tu a questi piccolini, ve lo faccio vedere invece quello che c'è scritto qui dietro, perché siamo sempre operativi proprio per tanti pelosetti del mondo. Anche lei si trova a casa di Monica ed è la nostra tigra, ve la ricordate tigra? Questa stava a casa del papi, ma cosa ricordate di me? Ma tu stai sempre vicino a me? Sempre questo invece è Dino, è Dino. Oh, allora tu non devi fare il credino, capito? Dai, comportate bene. Dino è troppo bello, è troppo troppo bello, Dino mi fa tante coccole. Tutti intorno al papi, anche la nostra tigra questa è stata salvata da noi e poi presa in adozione da Monica, invece lui è Dino che mi fa tante coccole ogni volta che arrivo, lì c'è sta quell'altro che cerca le coccole, un sacco di pelosetti. E lei anche è stata adottata sempre da Monica, del nostro gruppo Principessa, quella che è praticamente allattato tutti i cuccioli trovati di Priverno in questo periodo. Cioè chiunque, c'era una signora che mi ha detto, guarda c'è un cucciolo di cane, dove lo possiamo attaccare a Principessa? Pure, no, no, capito? Ma poverina. Comunque, tutto questo è successo a casa di Monica, la nostra volontaria dell'Italia Quattro Zampe, perché solo grazie al vostro aiuto possiamo essere la voce di tanti pelosetti del mondo. Anche lei è un'altra cattina adottata dal nostro gruppo. Monica, ma praticamente te li si è prese quasi tutte e due le cattine. È vero, quelle un pochettino più grandi che volevano un po' di spazio le abbiamo consegnate qui a Monica e da Monica sono rimaste. Lei è bella, è stata sterilizzata, mi ricordo, bella. Ma guarda quanto è diventata grande. È stupenda proprio. Ma è bellissima. È colore della tigre, c'ha. Bella. Bella, ma io ti ho fatto tante coccole quando tu eri piccola, ma ti ricordi? Oh niente, ma i catti proprio... Ecco, a posto, grazie. A posto. Ha fatto vedere proprio il lato, quello che mi spetta da vedere. Comunque, un'altra adozione di Vitoria Quattro Zampe, siamo venuti a trovarla perché spesso veniamo proprio a casa di Monica, perché lei è troppo bella. Questa è una delle cosine che abbiamo comprato da Zomax. Guardate un po', vi faccio vedere pure il prezzo perché abbiamo lasciato il buffo, come si dice, abbiamo lasciato il sospeso, non so come si chiama a casa vostra, comunque quando uno va da una parte e non paga, non so quello che lascia. Noi lasciamo il buffo, l'abbiamo lasciato da Zomax, ma Massimo ci conosce abbastanza bene. Guardate ragazzi che meraviglia che ci abbiamo qui, guardate quanti piccolini. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, l'abbiamo dovuti ripulire tutti. Guardate quella bianca e nera e la mucchetta, quella che è stata abbandonata a Fossanova. L'abbiamo dovuti ripulire tutti, se le vedete un po' così bagnatucci, perché avevano fatto i bisognini dentro il trasportino. Sti pazzi scatenati, una puzzetta dentro la macchina. Ma tu che cosa vuoi piccolino? Vabbè, loro sono i nuovi ospiti a Casa del Papi. Inizia questa nuova avventura. Sei, ma solamente cinque, cercano una casa. L'altro lo stiamo tenendo in stallo in attesa che arrivi la sua mami. Ok? Siamo tutti pronti da Casa del Papi per questa nuova avventura. Grazie a tutti. Grazie a tutti.